Questo è stato il primo anno in cui il bilancio si è prodotto una settimana, forse massimo 10 giorni di tempo, quindi con pochissima possibilità di discutere, soprattutto delle possibilità di suggerire soluzioni alternative, perché è su questo che poi bisogna porre l'attenzione. Noi abbiamo detto subito in Consiglio Comunale che questo bilancio, il primo dell'amministrazione Piraldi, aveva all'interno una manovra finanziaria che per noi non era assolutamente condivisibile, in quanto come manovra finanziaria affonda le sue radici in scelte fatte di recente, sono state poc'anzi elencate, ma anche scelte fatte in passato e precisamente nel 2002, quando fu fatta la gara per il servizio della tezza urbana che è quella che noi oggi abbiamo. Quindi una gara che ha prodotto dei grossi guasti, dei grossissimi costi, oggi il Comune di Casa Massima spende circa 3 milioni di euro per avere un servizio che lascio a voi giudicare. Per cui poi per questo motivo non ci poteva vedere questo bilancio, questa manovra finanziaria consenzienti, per cui siamo stati costretti a votare contro. Una spesa per il servizio della tezza urbana che assorbe un terzo del bilancio del Comune di Casa Massima. Quindi quando abbiamo evidenziato questo aspetto, il Sindaco in consiglio ha detto, io stamattina ho redarguido il titolare dicendogli che non ti pago più. E io ho detto evidentemente Mazzepanet, faccio il filo pedo, per dire noi è da un anno che denunciamo situazioni di questo genere, di servizi continui, i cittadini non ne possono più perché non facciamo altro che raccogliere lamentele, giuste, perché basta farsi un giro del Paese e uno poi dice ma esiste un servizio oppure no? Vi racconterò che il comandante della Polizia Urbana, un comune della Romagna, un anno e mezzo fa, quando è sentito quello che noi allora spendevamo per il servizio della tezza urbana, dice ma scusate, ma a Casa Massima pur la cera mi danno per terra? Questo è quello che ci è stato detto. In consiglio comunale quando si è trattato l'argomento della nuova gara abbiamo chiesto al signor Selleri ma perché a Bologna si paga la metà e tu qua ci vuoi far pagare il doppio di quello che di là si spende? Le risposte sono state molto vaghe, è stato fatto riferimento a costi affamigerati, costi standard, dei quali non si conoscono né le fonti né il sistema di calcolo. Io mi occupo spesso di problematiche di questo genere e so che i costi standard sono costi rilevati da nord a sud della nazione, va bene, alla fine diventano costi medi. Ma voglio dire come costi medi al loro interno hanno spazi di manovra di ulteriore riduzione, cioè un costo medio prevede, stabilisce o prende in considerazione chi spende troppo e chi spende poco. Alla fine si fa la media ma dalla media a chi spende bene e noi di esempi in Italia e anche molto vicino a noi, quindi cittadini virtuosi che hanno un ottimo servizio e che spendono molto meno, di questi esempi ne teniamo tanti e come è stato detto poc'anzi evidentemente noi siamo un paese ricco e ci possiamo permettere di regalare i soldi. In consiglio comunale ovviamente è stato detto ma voi criticate, abbiamo ribadito che i tempi erano stati molto ristretti e che quindi c'era stata negata la possibilità di fare delle proposte concrete e alternative, ma nonostante ciò raccogliendo l'invito del consiglio Pignataro abbiamo fatto anche delle proposte e quando parliamo di proposte, parliamo di proposte alternative alle entrate, cioè alla tassazione, perché poi giustamente uno non mi può rispondere, ma voi dite di non tassare, ma come dobbiamo far fronte alla spesa? E quindi abbiamo dato dei suggerimenti ma così venuti fuori nel giro di 5 minuti abbiamo fatto riferimento per esempio al famoso diritto di superficie, lo Stato anni addietro ha stabilito che gli enti pubblici possono alienare i propri beni. Allora noi a Casa Massimo abbiamo centri commerciali e cooperative che insistono su aree con diritto di superficie. Il governo allora fece una legge e dette la possibilità ai comuni di alienare questo bene immateriale che andrà a consolidarsi fra 80-90 anni eccetera. Quindi se oggi c'è la possibilità di cedere questo diritto di superficie alle famiglie o agli operatori commerciali, i quali spesso hanno difficoltà per finanziarsi, quindi c'è stato stabilito questa possibilità, perché non utilizzarla? Alla fine io preferirei chiamare tutti gli operatori del barigeno del centro commerciale e dire qua tu hai la possibilità di acquisire il diritto di superficie, queste sono le tariffe, le potremmo anche rivedere, ma poi ci servirebbe ad evitare tutta questa sorta di tassazione a carico delle famiglie. In più abbiamo detto che la precedente amministrazione ha approvato un regolamento sugli impianti fotovoltaici, di questi alcuni stanno andando già a regime e siccome quel regolamento prevede una royalty, cioè che le imprese produttrici di energia debbano dare un contributo al comune pari al 2% del fatturato agro, sono somme, noi abbiamo un impianto, credo mi hanno raccontato, di 40 megawatt, quindi immaginate una potenza enorme, su 36 centesimi che lo Stato corrisponde di contributo per kilowattora prodotto, quindi ricavare il 2% di tutta questa cifra credo siano cifre consistenti.